E rieccoci qui insieme, sono le 7 e 13 minuti di mercoledì 21 giugno, ancora bentrovati a questa puntata del Buongiorno Bari, quest'oggi ovviamente dedicata agli esami di maturità e ovviamente non potevamo non avere con noi Nicola Pignataro. Hai finito di parlare del Bari? Eh beh sì, ma hai finito di parlare del Bari qui, ma in giro sulle strade, nei bar, continuo ancora a parlare, devo tranquillizzare i tifosi baresi portandoli verso il futuro, un giorno. Però io ho una domanda, te la devo fare e te la faccio in diretta, preferisci me o Michele Carofiglio? Beh dai, non cominciare, non devo creare delle diatribe. Cioè Michele che se la ride il regia, lo vedo da qui. Michele, con lui ho battuto un record. Delle 6 ore di diretta. Non ho fatto anche Mike Borgiorno. E allora, intanto io vi ricordo i numeri per intervenire in diretta, 080 501 4668 per le vostre telefonate e 9998 per i vostri whatsapp e whatsapp audio. Lo abbiamo già detto, quest'oggi ci occupiamo di esami di maturità, ci occupiamo degli studenti più che altro, delle emozioni che stanno vivendo in queste ore, tra pochissimo le sentiremo anche con il nostro Roberto Maggi. Nicola, tu te li ricordi i tuoi esami di maturità? Io credo che nessuno possa dimenticarli quelli. Perfettamente. Mi ricordo una grande avventura negli esami di maturità, un lontanissimo anno. Io ho conseguito un diploma di geometra e su questo diploma ho anche scritto delle gag comiche, delle commedie. Però sono geometra, sono geometra e quando lo dico la gente non ci crede. I, come è? Un Ucom che è geometra? Eh, non potete essere geometra un Ucom. Anzi, sei ancora più preciso quando poi scrivi i tuoi copioni. No, ma la cosa più antipatica, diciamo, tra virgolette, è che quando me ne esco con qualche discorso, diciamo, intellettuale, con qualche citazione filosofica, e io perdo tanto tempo dicendo alla gente, oh, che io non so scema di avere. Devi specificare. No, anzi, ricordiamo che tu sei una persona, non lo dico perché sei qui, ma di grandissima cultura. Non a caso noi lo chiamiamo praticamente per ogni argomento. Nicola passa da un argomento all'altro come se nulla fosse. No, io poi devo anche molto alla scuola. Devo alla scuola, anzi, io dico sempre in giro che ho avuto tre mamme. Perciò sono diventato così. Se no, avrei parlato ancora adesso solo il dialetto. Perché prima mia madre parlava il dialetto. E io ho imparato il dialetto. Poi alla scuola media ho imparato l'italiano. È lì che è stato. La scuola Amedeo d'Aosta ho fatto. All'epoca si chiamava quinto gruppo. Prima e secondo anno, poi il terzo anno diventò Amedeo d'Aosta. Che poi è la stessa scuola che dove hanno frequentato tantissime. Tantissime, certo. Ecco, come c'è io. E quindi eri lontanissimo, 1953. Avevo dieci anni. Dieci anni. Entrai nel... Aspetta solo un attimo Nicola che abbiamo un ascoltatore che ci aspetta da un po'. Pronto? Buongiorno. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno Nicola, finalmente. Ti hanno portato in tv. Sono contenta perché stamattina mi hai detto la pillola per stare ancora meglio di come sto. Perché non sono stata bene in questo periodo. E stamattina guardandoti veramente, mi stai dando tanta forza. Anche perché di qualche frase in dialetto barese. Insomma, dopo che ho nascuto barese che è bellissimo. Ti auguro, buon lavoro e buona giornata. Buongiorno a te, dottoressa. Un abbraccio grande, un abbraccio grande alla nostra ascoltatrice. Sei portatore sano, di buon umore. Ormai lo sai, non scopri niente. È un premio che ricevo. È carino. Questa signora che è legatissima al dialetto barese. Che poi è un dialetto nel quale noi ci riconosciamo tutti quanti. Vedi, il barese quando parla in italiano, in effetti traduce simultaneamente il dialetto. Perché il pensiero in dialetto poi lo traduce in italiano in un attimo, in una frazione di secondo. Quindi noi pensiamo in dialetto e parliamo in italiano. Il valore taumaturgico di Nicola Pignataro, questo potremmo dire. E allora, raccontateci i vostri ricordi dell'esame di immaturità. Ammesso e non concesso che qualche studente ci stia ascoltando, anche se penso che adesso saranno tutti impegnati fuori a fare la fila. Insomma, magari qualcuno è già entrato, all'interno ha già preso posto, i famigerati possi che sono fondamentali durante l'esame. Che cosa gli vuoi dire agli studenti? Agli studenti voglio dire state calmi, perché il nemico peggiore nel giorno degli esami è proprio il nervosismo, la paura, questa tensione interna. E invece pensate ad altro. Se avete studiato, siete sicuri di voi stessi che il primo avversario è la propria persona. Voi guardate allo specchio, come se fosse un avversario, vedete un piccolino al professore. Lui farà le domande, lui è il tuo nemico in quel momento, mi raccomando, è solo in quel momento il nemico, perché il professore è un grande amico che noi ci portiamo e io ricordo tutti i professori che mi hanno insegnato tante cose. Quindi è con calma e tranquillità affrontare gli esami. E se non hanno studiato? Non hanno studiato a dovere, mettiamola così. E se non hanno studiato? Tanti auguri. Posso dire, soccacchilo. No, da studiare, uno va a scuola per studiare, non per giocare. Tu hai giustamente parlato dei professori che diventano poi fondamentali anche nella formazione. Il tuo professore del cuore, ne hai uno? È una professoressa. Una professoressa. Due, due. Una per la professoressa dell'elementare, la signora Lavopa Panza, me la ricordo ancora, che è stata la mia, appunto, seconda mamma praticamente. E lei cominciò a darmi i primi segnali di quello che era la lingua italiana, ma alla scuola media fu proprio la compensazione totale, perché alla scuola media cominciai a studiare le varie materie, storie, geografie, latino, studiavamo in latino, e la signora Idea Mucciarcia è stata la mia professoressa per tutte e tre, prima, seconda e terza media, e di lei io porto un ricordo e conservo una lettera magnifica che lei mi mandò quando io ero già diventato famoso, attore, eccetera, perché mi svelò che era venuta a teatro più di una volta senza farsi vedere. E poi me lo confessò e quel giorno mi comparve, posso dire, mi uscirono le lacrimucce da noi. Ma anche adesso ti vedo un po' emozionato quando parli di lei, anche perché i professori hanno un po' questo compito ingrato, che magari vengono odiati durante gli anni di scuola, salvo poi magari in età adulta ripensare a loro con questa malinconia, con affetto. Io la rispettavo, non l'ho mai odiata, la temevo e la rispettavo, perché capivo che lì, che questa è la mia capacità di vedere immediatamente quel che succederà dopo, avevo capito che lei doveva essere la mia traghettatrice nei confronti della vita reale e ce l'ha fatta. E quando mi confessò, perché io ebbi un'idea ad un certo punto, perché la vita funziona, un giorno chiamai tutti gli alunni della classe B della Mediode Aosta, che nel frattempo eravamo diventati professionisti, e le riunite tutte, fece venire anche Joe Orecchio, uno della scuola che era andato in America a far fortuna, e l'aveva avuta la fortuna. Lui venne in Italia, fece un viaggio dalla America per venire alla festa di tutti gli alunni di quella sezione. Le famose rimpatriate, no? E facciamo venire anche il preside, Mastro Rilli, che venne lui, felicissimo, poi facciamo tornare tutti i vecchi amici, e lui firma, ci riuniamo in un hotel, in un albergo, eravamo quasi una cinquantina di persone. Gli esami di maturità, come dicono la parola stessa, sono un momento importante perché chiudono un ciclo della vita. Indiamo per scontato che magari i ragazzi che escono dagli esami di maturità siano adulti, non è sempre così, però questo ciclo, i cinque anni di liceo in particolare, sono quelli che probabilmente ti formano per la vita e in cui raccogli poi i ricordi migliori della vita. Sì, ma non solo i licei, anche le scuole professionali. Io ho fatto una scuola tecnica. Sì, sì, ho detto licei, ma intendevo ovviamente le scuole in genere. Sì, 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 assolutamente sì. E quindi, è proprio lei che si crea la formazione della vita futura, perché tu diventi adulto nella scuola. Quando esci dalla scuola di maturità, scherzo, ti faccio un esame di maturità, esci veramente maturo, perché hai capito qualcosa. Tutto il resto, poi l'università, diventa una compensazione e una reazione a quello che hai fatto prima. E allora ognuno sceglie la sua strada, però negli ultimi tempi la scuola è diventata quasi un mezzo. Ti posso dire la mia idea? Certo. Allora, purtroppo, c'è una grande percentuale di medici che si laureano in medicina e sono figli di medici. Si laureano in giurisprudenza e sono figli d'avvocati. Quindi alla fine vivono un po' nella bambagia. Mentre quando si deve andare a scuola si deve andare a creare, a scolpire, a far cadere un muro che ti si para davanti che poi ti porterà alla vita. E allora in questa maniera tu ti senti auto-maturato, oltre alla maturazione ovvia della lesione, e vai con più coraggio ad affrontare la vita. C'è un altro valore con cui probabilmente entri a contatto per la prima volta nelle scuole superiori che è quello dell'amicizia. E ti posso dire una cosa che porto nel cuore? Devi. Perché io, nel momento in cui diventai geometra, andai immediatamente a lavorare all'Italcementi. Io facevo il gioco tra l'Italcementi e ebbi la fortuna di conoscere, prima ancora di venire qua dentro, Orfeo Mazzitelli, il fondatore di questa televisione. Possiamo dire comunque un incontro che in qualche modo ti ha cambiato la vita. Sì, ma non sapevo niente, successe dopo. Io gli vendevo il cemento. Dall'Italcementi aveva una fabbrica di costruzioni prefabbricate a Palese. una cosa del genere. E io facevo le... Diciamo la... Come si chiama? Vabbè, gli chiedevo quel che volevo. Il contratto. Il contratto. No, si chiama in un'altra maniera, ma mi sono scordato, conosco tutto del teatro. Allora, gli facevo il contratto, gli facevo la spedizione e poi andavo a prendere la fattura, i soldi, la fattura, e mi piaceva come Orfeo, sorridendo, mi pagava. Pagava a me, pagava all'Italcementi. Io ho avuto i primi soldi, i primi danari quando ero fidanzato e poi sposato dall'Italcementi. Dopodiché, quando fondò telebari, ci rivedevo qua e eravamo già amici. E allora, ve l'avevamo anticipato all'inizio della trasmissione. Insomma, c'è il nostro Roberto Maggi in giro per le scuole per parlare, per mostrarci che cosa sta accadendo agli ingressi. E allora, colleghiamoci con lui. Roberto, vengo subito da te. Eccoci Serena, allora, siamo sempre davanti all'ingresso del flacco perché come potete vedere i ragazzi sono pronti. Alcuni sono già entrati all'ingresso. Noi abbiamo racconto alcune voci sulle impressioni anche di questa nottata, di questa notte prima degli esami. Allora, ascoltiamo le parole dei ragazzi. È un'emozione, è un'esperienza unica nella vita. Io volevo, aspettavo da molto questo momento sicuramente. Ovviamente c'è un po' di ansia, c'è un po' di agitazione, però, insomma, si spera di fare il meglio che si può, ovviamente. Ieri ci siamo visti tutti qui insieme, appunto, anche un bel momento di unione in realtà perché comunque, sì, è vero l'ansia, un momento importante, ma anche importante viverlo con gli amici, con le persone comunque che sono state parte di questo percorso lungo cinque anni è sicuramente molto importante della nostra vita. Un po' di insonnia sicuramente, qualche pensiero di troppo, ma appunto alla fine abbiamo studiato e bisogna stare tranquilli. Hai scelto la Polo del Bari per fare gli esami di maturità, è casuale questa scelta? Sì, sì, ma anche no perché nonostante l'ultima sofferenza diciamo che è stata una scelta d'amore, ecco. Un connubio, un connubio perfetto tra ansia, preoccupazioni, paura di volontà, anche voglia di fare bene a questi esami perché è vero. Un po' le emozioni anche se pensate già anche al domani. Eh certo, è l'unica cosa sicura il domani, cosa farò nella vita dopo. Cioè? Spero, veterinaria o scienza animale. Ecco, io non lo so ancora quindi speriamo che oggi vada bene, mi fermo ad oggi io, ma va bene. E tu invece? Io penso per grado, oggi ho la prova di italiano e mi concentro su quella, domani poi si vide cosa succede. Che cosa vi aspettate? Allora, io spero ovviamente in Svevo quindi traccia A se no si va di traccia C come... Nel caso della traccia A non si legge nemmeno. Esatto, non si legge nemmeno la traccia A in caso. E ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui davanti all'istituto Orazio Flacco di Bari a tra poco. E allora, grazie Roby intanto, che meraviglia leggere l'emozione di questi ragazzi. Andiamo, torniamo indietro come un film a ritroso. È vero, è vero. Ricordo, ti posso dire anche una questione molto importante della mia vita perché proprio da là è partito tutto. Perché io non ero destinato alla scuola perché mio padre faceva il dipendente di una impresa di trasporti era quindi un dipendente guidava il camion partiva la mattina alle 5 e tornava la Siria lo vedevo quasi mai lo vedevo solo la domenica e quindi io ero il primo genito e vedevo in me qualcuno per aiutare la famiglia avevamo 5 io avevo 4 fratelli avevamo 5 figli e lui aveva già trovato il posto alla fine della scuola elementare per andare a fare il panettiere secondo mio padre dove andare a fare le pagnotte ma io volevo andare a scuola perché avevo questa grande voglia allora la scuola media non era obbligatoria bisognava fare l'esame da missione e quando per fare l'esame da missione io dovevo andare da una professoressa un professore per essere preparato a fare l'esame da missione ci voleva di soldi papà ma tu si fai da c'ha fatta il panificio che ti sta aspettando papà ma io voglio andare a scuola ma veramente lì ti sul ser non sto scherzando no no ci credo finché allora la maestra la vopa panza che ti ho detto venne a casa e disse signora questo bambino è intelligente dovete mandarla a scuola ecco ma ma fede disse mamma ci volevano i soldi ci volevano all'epoca 2000 lire per essere preparato da una professoressa e tutto il vicinato era convinto perché io già sapevo leggere e scrivere prima ancora di andare alla prima elementare perché avevo una zia che mi aveva insegnato insomma scusso un piccinino gli è intelligente gli è intelligente allora che successe Serena tutto il vicinato fece una colletta e accocchiarne le 2000 lire per farmi fare gli esami di ammissione allora andai a fare gli esami di ammissione tornai a casa allora trovai tutte le signore che avevano fatto la colletta e certo perché si sentivano tutte le parti della tua successa allora tutta aspettate me ci si fatte la domanda e io di risposta si mi state promosse la festa paesana io spero che tu l'abbia scritta da qualche parte questa storia perché è meravigliosa sì io ho scritto il libro guardami rita ho detto tutto quasi tutto insomma che sono delle cose intime tra l'altro noi ci stiamo avvicinando alla chiusura c'è un messaggio che vorrei che tu lanciassi ai ragazzi che poi si evince molto bene anche dal racconto che hai fatto sul post scuola quando dicevi che avevi cominciato la professione di geometra e hai conosciuto per caso Orfeo Mazzitelli questo perché che messaggio voglio lanciare ragazzi state accurate ogni rapporto perché magari oggi avete delle idee ma non sapete che cosa succederà della vostra vita possono accadere mille cose non date nulla per scontato combattete tutte le battaglie che vi si presenteranno tanto più siete giovani ne avete di energie quindi non tralasciate niente perché una di quelle cose potrà essere la scintilla che potrà far sviluppare la vostra vita io grazie a una piccola professoressa che dice che io ero intelligente mi trovo a fare quel che faccio adesso sono conosciuto in tutto il mondo ho fatto tanti anni di successo ho fatto 23 film me ne hanno proposto un altro di recente avanti ieri mi è arrivato da Roma quindi ci stai dando un'ultima ora eh sì forse hanno bisogno di un vecchietto ma come che sei così 58 anni di matrimonio 62 compresi il fidanzamento che conosco Rita più più tutto quello che ho combinato ho fatto ho girato il mondo qualche cosa e mi vado a fare un altro film il titolo dovrebbe essere almeno se dovessimo trovare l'accordo il titolo è anche inquietante sarebbe malamore non malamore tutta una parola malamore senza la mia non diciamo altro tanto poi verrei a parlarne in questo studio ovviamente se succede ma dobbiamo ancora sistemare le cose devo mandare ho chiesto il copione devo mandare diciamo una specie di di profilo e poi via e allora vedo al volo collegato ancora il nostro Roberto Maggi Robi vengo da te vengo da te sì Sere allora abbiamo sentito come potete vedere adesso la scala qui è vuota perché i ragazzi sono tutti all'interno sono entrati e tra un po' si inizia si inizia con la prova abbiamo intervistato pochi istanti fa la vicepreside del quinto razio flacco del liceo quinto razio flacco e abbiamo ascoltato anche un po' le sue impressioni perché è stata la notte prima degli esami per i ragazzi per gli studenti ma è stata la notte prima degli esami anche per gli insegnanti allora ascoltiamo le parole della professoressa Balmieri il consiglio è di stare tranquilli e di essere sicuri della formazione che hanno perché la scuola si è spesa molto umanamente formativamente quindi questo è un momento in cui ricominciano gli esami tradizionali e per loro e loro saranno in grado di affrontarli bene lo so lo so come vi siete preparati a questa giornata c'è qualche differenza rispetto agli altri anni no siamo tornati al vecchio no al vecchio sistema anti-covid non si è riproposta la terza prova penso lo sappiate ma tutte e due le prove provengono dal ministero e quindi i ragazzi come dire devono affrontare l'incognita e questa è una scuola che prepara e l'ho sempre fatto anche in dad anche in dad con una qualità altissima di offerta formativa e dunque avete sentito le parole della vicepreside dell'istituto del liceo quinto Orazio Flacco noi naturalmente vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso delle nostre prossime edizioni dell'informazione tra l'altro vi diremo anche quali sono state le tracce perché poi questa è la grande attesa per ora è tutto dal Flacco da Bari linea allo studio infatti che curiosità sapere le tracce grazie intanto al nostro Roberto Maggi per il suo tour beh è cambiato tanto quando ho fatto gli esami di maturità gli esami erano per tutte le materie io ho dato gli esami pur dell'educazione fisica l'esami religioso oggi è un po' diverso però possiamo dire che alla tensione almeno quella è la stessa e allora in bocca al lupo a tutti i ragazzi che stanno per cominciare il loro la prima prova di questi esami di maturità intanto grazie come sempre al mio compagno di viaggio Nicola Pignatara grazie a te che mi chiami io come sempre vedo un nome tu grazie a Nicola Pignatara io do subito la linea a Cristina Ferrigni per il giornale radio grazie a te